Continuano incessantemente i controlli da parte della polizia stradale di Arezzo nel tratto a retino dell'autosole. Nel tardo pomeriggio di domenica 9 marzo, nei pressi del casello di Arezzo, è stata intercettata un'auto con a bordo due albanesi trentenni. Intorno alle 18.30, i due, proprio nei pressi del casello, hanno cercato di eludere i controlli. È così partito l'inseguimento, che è terminato all'interno dell'abitato di Vicio Maggio. I due hanno abbandonato l'auto e sono scappati a piedi due diverse direzioni, ma sono stati fermati di lì a poco. Dagli accertamenti effettuati è emerso che uno dei due, il passeggero, era evaso dagli arresti domiciliari dove stava scontando due anni e cinque mesi. Per traffico di stupefacenti e documenti falsi, adesso è nel carcere di Sollicciano. Il conducente, invece, è stato multato di 5.500 euro per guida senza patente e violazione delle misure di contenimento del Covid-19.